Sono quasi 5 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, esattamente 4 milioni e 742 mila. A riferirlo è l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2016, un dato che si attesta stabile sia per le famiglie che per gli individui rispetto agli anni precedenti, ma a salire drasticamente è l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con tre o più figli minori a carico. Se nel 2015 erano il 18,3%, un anno dopo sono salite al 26,8%. Aumenta anche tra i bambini, sale infatti al 12,5% rispetto al 10,9% dell'anno precedente, soprattutto nel centro Italia. Qui l'incidenza della povertà assoluta è aumentata sia per le famiglie che per i singoli individui. A stare meglio sono gli anziani rispetto ai giovani. Il valore minimo di povertà assoluta, pari al 3,9%, si registra infatti tra le famiglie in cui la persona di riferimento è un'ultra 64enne. Sale al 10,4% tra le famiglie in cui il capofamiglia ha meno di 35 anni. Un dato che rispecchia l'alto livello di disoccupazione giovanile che colpisce il nostro Paese. A pesare però è anche il titolo di studio. Come negli anni precedenti, l'incidenza della povertà assoluta diminuisce al crescere del titolo di studio. L'8,2% per chi ha un titolo di studio elementare contro il 4% di chi possiede almeno un diploma. A incidere però è anche la posizione professionale della persona di riferimento. Per le famiglie in cui è un operaio, l'incidenza della povertà assoluta è doppia rispetto al resto delle famiglie.